Avrete sicuramente sentito o seguito anche magari in modo dettagliato quello che è accaduto in questi giorni riguardo all'elezione del nuovo barra vecchio presidente della Repubblica perché un po' sorpresa ma poi neanche troppo è stato riconfermato nella carica Sergio Mattarella che già è stato presidente negli ultimi sette anni e che rimarrà presidente per un altro settennato. È una situazione strana, una situazione particolare ed è molto particolare anche come ci si è arrivati. Oggi tenterò di spiegarvi tutti i meccanismi che sono entrati in gioco sia istituzionali sia politici in questa settimana un po' convulsa che si è conclusa da poco e spero aiuterà a chiarire un po' l'idea a chi non ha seguito tanto oppure a seguito non ha capito del tutto quello che stava accadendo. Se siete ovviamente grandi conoscitori della politica, esperti dei meccanismi forse le cose che dirò saranno inutili, scontate e già ben note. Se invece appunto avete guardato ma non capito o avete sentito ma non compreso, forse questo è il posto che fa per voi. Oggi parliamo di come è stato rieletto Sergio Mattarella e in generale di come funziona l'elezione del presidente della Repubblica. Andiamo a cominciare. Non so se il caffè come al solito nella tazza con la scritta andiamo a cominciare che ho pronunciato e che devo pronunciare in apertura di ogni video. Come ci sono i miei compagni d'avventura, cioè Batman, Tostoi, scusate Batman, Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè e il mosto peloso. E io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno nel liceo scientifico Tino Vigo e da due anni ormai sto realizzando su questo canale delle video spiegazioni che seguono più o meno il programma di storia, di filosofia e di educazione civica che si svolge al liceo ma con molte cose che possono tornare utili a quanto mi dicono anche all'università oppure in certi casi anche alle scuole medie. Quindi se siete interessati, curiosi, vi piacciono queste discipline e volete capirle di più, date un'occhiata in descrizione già a questo video dove ci sono le playlist principali oppure nel canale e esplorate un po', divertitevi ad esplorare. Oggi parliamo di un tema di attualità, strettissima attualità che però si lega pesantemente all'educazione civica in primo luogo ma poi anche alla storia ovviamente e forse perfino un po' alla filosofia ma molto di spiego. Parliamo dell'elezione del Presidente della Repubblica. Io sto registrando questo video il 30 gennaio 2022, oggi domenica, ieri sera è stato eletto il Presidente Sergio Mattarella o meglio rieletto perché ha appena concluso un settennato da Presidente della Repubblica e adesso ne farà un altro. In passato ho già dedicato un video al tema del ruolo del Presidente della Repubblica e ve lo linko in descrizione se volete andarvelo a vedere è più breve di questo e poi molto più diretto penso al ruolo istituzionale, che poteri ha, che cosa fa, come viene eletto il Presidente della Repubblica e in generale quali sono stati gli ultimi Presidenti della Repubblica anche facevo uno schema con il numero di scrutini necessari per eleggere ogni Presidente. Quindi c'è il video più breve, più asciutto, più generale sulla tematica, ve lo linko in descrizione e quindi a quello vi rimando se volete un approfondimento più da educazione civica. Ma oggi, riprendendo pure alcune cose di che ho detto là, vorrei approfondire quello che è accaduto in questa settimana e darvi una chiave di lettura. Attenzione, come ho fatto anche altre volte, la mia chiave di lettura sarà, vorrebbe essere, poi giudicherete voi se ci sono riuscito oppure no, vorrebbe essere una chiave di lettura non partigiana, nel senso di facevo il tifo per questo candidato, ha vinto o non ha vinto, facevo il tifo per questo politico, ha vinto o non ha vinto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che sono anche utili in certi casi, ma adesso non è questo il mio scopo. Il mio scopo qui è cercare di spiegare, spero nella maniera più neutrale, ma allo stesso tempo onesta possibile, cosa è successo proprio letteralmente, quali sono stati i meccanismi che sono intervenuti sulla scena. Anche tenterò di dire, secondo me, nella mia lettura, quale politico ha agito con più capacità e quale magari è incappato in qualche errore, ma ripeto, da un punto di vista di tecnica della politica, mi piacerebbe riuscire a parlarne al di là poi delle tifoserie, ecco, poi è chiaro che ognuno ha le sue preferenze, ha il suo partito magari di riferimento, il suo candidato di riferimento, ma adesso mi piacerebbe, se ci provo almeno, riuscire a fare un'analisi che possa essere condivisa da anche persone di provenienza politica diversa, anche persone di esperienza diversa, perché serve anche a volte, credo, un'ottica più neutrale, molto spesso noi ci imbarchiamo in analisi del voto che sono estremamente partigiane, ripeto, non voglio criticare la partigianeria, è il sale della politica e ovviamente ci sta bene, ci sta tutta, però ci sta, secondo me, quando almeno le basi sono chiare. Bisogna capire come funziona la politica, capire come funzionano i meccanismi, ad esempio, per le elezioni del Presidente e poi sopra a una comprensione di base comune ci si costruisce poi la propria opinione, eccetera. Quindi tenterò di dare questa panoramica. Poi mi riserverò alla fine qualche commento e qualcosa anche adesso all'inizio sulla figura di Mattarella. Commento personale, ma ripeto, credo anche tutto sommato motivato e lo dichiarerò, insomma, in maniera esplicita, perché poi magari in questo caso qualche commento personale su alcuni problemi che secondo me sono emersi vale la pena rifarlo. Però, appunto, commento da, tra virgolette, studioso nel mio umile e piccolo ruolo, da studioso non da, ripeto, fan di questo o di quell'altro uomo politico. Allora, intanto, chi è il Presidente della Repubblica? Per chi si è perso il video precedente in due parole, il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, cioè è la persona che anche proprio fisicamente, plasticamente, come si usa a dire oggi, rappresenta l'unità dello Stato. È una persona che, se dice la Costituzione, deve essere eletta in un modo molto particolare, non direttamente dal popolo, ma tramite una seduta comune delle due Camere, Camera dei Deputati e Senato, più una serie di rappresentanti delle Regioni, e ha il compito di governare, cioè o meglio, di guidare il Paese per sette anni, pur senza risporre di un potere particolare. Perché, se ricordate i tre classici poteri, potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario, il Presidente della Repubblica non detiene nessuno di questi tre poteri. Il potere esecutivo è in mano al governo, il potere legislativo è in mano al Parlamento, il potere giudiziario è in mano alla magistratura. Però, pur non detenendo nessuno di questi tre poteri, ed il Presidente della Repubblica ha il compito di supervisionare a tutti e tre questi poteri, perché conferisce l'incarico di formare il governo e nomina i ministri, su proposta dal Presidente del Consiglio incaricato, perché ha la possibilità di sciogliere le Camere e ha l'obbligo dell'obbligo. Diciamo che prima che una legge venga emanata dal Parlamento deve ricevere anche la firma, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e perché infine presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi, pur non detenendo un potere specifico, quindi non ha un ruolo fondamentale nel governo effettivo del Paese, non ha un ruolo diretto nel governo effettivo del Paese, ha però un ruolo di unità, di rappresentanza anche, ma di coordinamento, di controllo, di supervisione dei vari poteri. Quindi è un garante, verrebbe da dire, no? In concreto cos'è un Presidente della Repubblica? È una persona autorevole, dovrebbe essere una persona autorevole, che dall'alto, pur non intervenendo magari sempre ogni giorno quotidianamente nelle varie questioni, supervisiona che tutto funzioni, che anche i tre poteri, che potrebbero anche agire in maniera diversa l'uno dall'altro, riescano a mantenere un minimo di coordinamento, un minimo di unità. Quindi si fa proprio garante del buon funzionamento dello Stato. È la figura ultima di riferimento, ok? Quindi ha un ruolo anche simbolico, ha un ruolo di rappresentanza, è molto spesso impegnato in cerimonie, no? L'avrete visto anche in questi sette anni, e questo un po' dispiace forse anche per Mattarella, che avrà altri sette anni di cerimonie, di prime alla scala, di riti e rituali che la Presidenza della Repubblica comporta. Però in genere è appunto un uomo saggio, potrebbe essere anche una donna, ma finora purtroppo non è mai stata una donna, magari dopo dediceremo qualche breve spazio anche a questo tema che è emerso durante questa settimana. Comunque è una figura di riferimento autorevole, infatti la Costituzione chiede che questa persona abbia almeno 50 anni d'età. È un limite che la Costituzione stabilisce, proprio perché i pari costituenti hanno pensato che bisogna che sia una persona autorevole, una persona anche di esperienza, una persona che sappia, con la sua autorevolezza, col suo passato, con la sua storia, rappresentare anche proprio fisicamente l'equilibrio dei poteri dello Stato. Questo è più o meno quello che si chiede generalmente a un Presidente della Repubblica. Il meccanismo per eleggerlo è un po' particolare, perché non viene eletto direttamente dal popolo, la nostra non è una repubblica presidenziale e non è una repubblica semipresidenziale. La nostra è una repubblica parlamentare, così si dice, perché il popolo elegge il Parlamento, non elegge neanche il governo, se è per quello non elegge neanche i magistrati, elegge il Parlamento. Quello è il fulcro del nostro sistema. E infatti anche il Presidente della Repubblica è stato visto fin da principio, fin dai pari costituenti, come una persona che deve essere scelta in primo luogo dal Parlamento. Come vi dicevo, l'elezione del Presidente della Repubblica avviene ogni sette anni, generalmente, almeno che il Presidente in carica non si dimetta prima, e l'elezione avviene in una seduta comune di Camera e Senato, più appunto i rappresentanti delle regioni. Tenete conto che la Camera fa 630 deputati, o almeno ha fatto fino ad adesso, perché ricorderete che c'è stata anche una riforma costituzionale, il link in descrizione ve la descrive per bene. Quindi la prossima volta che si leggerà un Presidente non saranno più questi numeri, però per adesso sono stati questi numeri. Camera 630 deputati, Senato 315, più alcuni senatori a vita, e fanno 945 e qualcosa, più appunto i delegati regionali. Si arrivava in questo caso a 1.009 elettori, grandi elettori come vengono chiamati a volte. 1.009 persone che avevano il compito di votare e eleggere il Presidente della Repubblica. Questo già vi fa capire le dimensioni, la portata della questione. Coinvolge tutto il Parlamento, non solo il Parlamento, ma anche le regioni. Ma poi capite anche che questo sistema vorrebbe spingere il Parlamento e i delegati a scegliere una persona non troppo di parte. Nell'idea dei pari costituenti, il Presidente della Repubblica doveva, come vi dicevo, rappresentare l'unità dello Stato, rappresentare una figura appunto di garanzia, che possa essere considerata di garanzia da tutti o quasi, no? Cioè non deve essere uno che piace a un partito e che è odiato da tutti gli altri partiti. Bisognerebbe, quella era l'intenzione all'inizio e si è tentato, poi magari non sempre ci si è riusciti, ma bisognerebbe che fosse una persona che chiaramente proverrà da un'area, da un partito, da un ambiente, ma che poi possa essere apprezzata, stimata, quantomeno anche dai membri degli altri partiti, degli altri ambienti, degli altri settori. Perché? Perché appunto deve essere una persona autorevole, equa, giusta, corretta, che abbia come sua bussola, come suo punto di riferimento la Costituzione e fedelissimo alla Costituzione si mette a disposizione del Paese, questa è l'idea, no? Dovrebbe, poi chiaramente a volte sarà chiamato ad affidare magari l'incarico di formare un governo a persone che sono suoi colleghi di partito o ex colleghi di partito, altre volte sarà chiamato probabilmente a dare l'incarico di formare un governo a persone dell'altro schieramento, perché a seconda di come vanno le elezioni dovrà passare l'uno all'altro, ma dovrebbe essere equ equanime, giusto e corretto con tutti, della propria parte e dell'altra parte. Questo è quello che sostanzialmente si chiedeva fin dalla scrittura della Costituzione ai Presidenti della Repubblica. Pertanto il meccanismo elettivo è anche questo un po' particolare, forse l'avrete sentito in questi giorni, cioè si prevedono vari scrutini, già i pari costituenti avevano detto votiamo più volte, nel senso che se tutto va bene già alla prima votazione si trova un nome e lo si elegge, ma è possibile che non si trovi subito un nome, che magari tanti partiti abbiano un loro candidato, un loro nome e che ci si debba un po' accordare e quindi che ci si possa mettere anche del tempo ad eleggere questo Presidente. Allora, i pari costituenti, ripeto la Costituzione fu scritta tra il 1946-47, entrò in vigore il primo gennaio 1948, quindi stiamo parlando di 75 anni fa più o meno, i pari costituenti dissero, facciamo così, nei primi tre scrutini, cioè le prime tre votazioni, che si farà tutti assieme per scegliere il capo dello Stato, per eleggere una figura bisogna che si raggiunga un quorum dei due terzi dei voti, cioè cosa vuol dire quorum, cosa vuol dire due terzi dei voti? Oggi in questo giro c'erano mille e nove grandi elettori, facciamo conto che siano, arrotonniamo a mille per fare prima i conti, giusto per darvi un'idea, mettiamo che ci siano mille grandi elettori, due terzi di mille è 667, proporzione 66% e rotti, arrotondiamo a 6,67. Allora, nei primi tre voti, nelle prime tre votazioni, si dice tecnicamente, nei primi tre scrutini, perché uno venga eletto bisogna che prenda almeno, minimo, 667 voti su mille, che è una cifra abbastanza alta, due terzi dei voti, è tanta roba, non è così facile mettere a raccordo i due terzi del Parlamento. Quindi, se noi vogliamo mettere, eleggere un candidato, nelle prime tre votazioni, bisogna raggiungere quella quota, i due terzi. Quorum vuol dire questo, la quota di voti necessaria per essere eletti, il minimo indispensabile. Perché due terzi? Perché una cifra così alta all'inizio. Perché i pari costituenti, appunto, volevano dare un'indicazione chiara affinché il presidente eletto fosse una persona di garanzia stimata da un ampio arco di persone. Chiaramente, se tu riesci a mettere accordo i due terzi del Parlamento, direi che è una persona apprezzata da praticamente tutti, da quasi tutti. Ok? E quindi, bene, bene, buona cosa. In certi casi è successo che si sia riusciti ad eleggere un presidente della Repubblica, effettivamente già il primo scrutinio. Sono stati rari, è stato un paio di casi, però ci si è riusciti. Se però non si riesce a raggiungere questa cifra, questi 667 voti, o comunque due terzi, a seconda di quanti siano i grandi elettori, cosa si deve fare? I pari costituenti si sono resi conto anche che si può chiedere questo quorum molto alto, ma è anche comprensibile che in certi casi non ci si trovi d'accordo. Quindi non si arrivi mai a questo quorum e però prima o poi bisogna avere un presidente della Repubblica, non è che si può andare avanti sette mesi a cercare di mettersi d'accordo. Allora i pari costituenti hanno detto, primi tre voti si deve arrivare ai due terzi. Dalla quarta votazione in poi, invece, basta il 50% più uno dei voti, il quorum si abbassa dai due terzi alla metà più uno. 50% più uno cosa vuol dire? Nel caso in cui ci fossero mille elettori vuol dire 501 voti. In questo caso, nell'elezione del 2022 erano mille nove i grandi elettori, quindi il quorum era 505, perché la metà di 19504,5 si arrotonda per eccesso 505. Il primo candidato che avesse raggiunto dalla quarta votazione in poi 505 voti sarebbe diventato presidente della Repubblica. Questo perché, ripeto, a un certo punto bisogna anche arrivare un nome, arrivare a scegliere qualcuno. Uno dirà, beh, due terzi è difficile ma il 50% più uno è già facile. In fondo i governi stanno in piedi con quel tipo di maggioranza lì, con il 50% più uno dei voti e anche l'attuale governo Draghi sta in piedi perché ha in Parlamento il 50% anche abbondante dei voti, sia la Camera sia il Senato. Quindi uno potrebbe dire, vabbè, la maggioranza si metterà d'accordo e sceglierà un nome e una volta che sceglierà un nome, questo nome verrà eletto abbastanza facilmente. Sì, potrebbe sembrare così, ma in realtà è più complicato di così perché la carica di Presidente della Repubblica è una carica delicata, ovviamente, per il motivo per cui vi ho detto che coordina i vari poteri e poi perché rimane in carica ben sette anni, che è tanto, eh. Tenete conto che i governi in Italia mediamente durano un anno, un anno e mezzo, quando va proprio larga, tra quattro anni, nessuno è mai stato al governo una cifra così lunga, ininterrotta di anni, sette anni è tanto, i Parlamenti rimangono in carica, le legislature durano cinque anni, a volte finiscono anche prima, ma nel massimo dei casi cinque anni. Ora, sette anni è effettivamente una carica molto lunga e proprio per questo motivo i partiti quando si trovano, ma storicamente, dico mica solo stavolta, ad eleggere un Presidente della Repubblica fanno molta fatica ad accordarsi. Tenete conto che, vi ho detto, ci sono stati dei casi in cui il Presidente è stato eletto al primo scrutinio, certo, ma sono stati pochini, eh. In realtà, molto più spesso si va dopo il quinto, il sesto, a volte si è arrivati anche oltre il ventesimo scrutinio, cioè si è votato più di venti volte prima di trovare un accordo su un nome che avesse la maggioranza dei voti. Quindi, in realtà, quello che è successo questa settimana con Mattarella non è strano nella storia della Repubblica. In fondo, una settimana di votazioni è anche poco nella media rispetto ad altre situazioni in cui si è andate avanti all'infinito. Ma, e qua ci torniamo sopra tra qualche minuto, è stato percepito come una cosa interminabile, una cosa infinita. Perché? Perché forse i tempi sono cambiati, perché le TV oggi fanno dirette infinite. Se avete seguito la Maratona Mentana o qualche canale All News avrete proprio sentito sul collo la situazione. I social network hanno reso tutto molto più veloce, tutto più velocizzato. Pensate a come era negli anni sessanta. Tu compravvi il giornale la mattina, leggevi come è andata ieri a Roma, hanno deciso che so quale Presidente della Repubblica fare. Ah no, oggi no, vabbè, vedremo domani. E tu per un giorno non ci pensavi più, perché tu facevi la tua vita tranquilla, normale. La politica, certo, magari ti poteva anche interessare, ma ne sapevi qualcosa una volta al giorno, alla mattina, quando compravi il giornale alle 8 del mattino, leggevi mezz'oretta e poi ti dedicavi alla tua vita. Oggi la politica in certi momenti è diventata parte pressante della nostra vita, perché accendi la TV e ci sono i canali All News che parlano continuamente di politica. Accendi il cellulare, apri un social network e ti trovi meme, ti trovi le notizie, ti trovi commenti, ti trovi articoli condivisi. La politica è estremamente più pressante, complice tutto il mondo che è estremamente più veloce, più informatizzato e più informato. E questo sta cambiando anche il modo di eleggere il Presidente della Repubblica. Ve ne sarete resi conto anche da alcuni tweet che sono usciti in questi giorni, alcuni efficaci, alcuni anche clamorosamente dei passi falsi e ne parliamo tra poco. Prima di vedere cosa è successo, parliamo brevemente di Sergio Mattarella, Presidente uscente e riconfermato. Sergio Mattarella è stato eletto nel 2015, non da questo Parlamento, perché questo Parlamento è stato eletto nel 2018, quindi dal Parlamento precedente. E ha concluso il suo settennato proprio quest'anno. Che Presidente è stato? Allora qua vi dico la mia opinione personale, quindi parentesi, lo dico ben chiaro, mia valutazione, secondo me è stato un ottimo Presidente della Repubblica, nel senso che è stato un Presidente corretto, con tutte le forze politiche, è stato un Presidente anche modesto, secondo me, nel senso, modesto non nel senso di modesto di livello, ma modesto nella sua voglia di mettersi in mostra, nel senso che è stato un Presidente che ha saputo stare molto spesso in disparte, che non ha avuto voglia di protagonismo, come secondo me deve saper fare un Presidente, perché un Presidente deve sapere quando è il momento di parlare, quando è il momento di tacere, deve sapere anche che il suo ruolo è molto delicato e quindi richiede cautela molto spesso. E però, nonostante questo non stare sotto i riflettori, ha saputo anche dire la sua quando serviva, ha saputo muovere delle pedine quando serviva, ha saputo fare anche delle scelte serie e a volte al momento impopolari, che però nel medio e lungo periodo l'hanno molto pagato, secondo me. Mi riferisco ad esempio alla nascita del governo giallo-verde nel 2018, pensate a quella fase, era una fase critica, obiettivamente critica, nel senso che era stato letto un Parlamento dove non c'era nessuna maggioranza chiara, il centro-sinistra era andato male, il centro-destra era andato abbastanza bene, ma non benissimo e non aveva la maggioranza per formare un governo, i 5 Stelle erano andati molto bene, ma da soli, come loro avevano spesso sostenuto di restare, non avrebbero potuto formare un governo. Quindi non c'era uno schieramento chiaro dall'esito elettorale da cui sarebbe potuto nascere un governo e questo avrebbe potuto destabilizzare l'Italia, creare grandi problemi. Mattarella ha lavorato attivamente per creare un governo, per trovare un governo e l'ha fatto soprattutto, quando ha visto che c'era lo spiraglio, ovviamente non è che se l'è creato lui il governo, ma l'ha fatto sentendo anche le forze, favorendo la nascita del governo, come si diceva già lo vero e 5 Stelle con Lega, che magari a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, però è stato un governo che era il governo più logico che nascesse in quel momento lì, obiettivamente, perché Lega e 5 Stelle avevano alcune posizioni comuni, perché già prima delle elezioni si era abbastanza subodorata a questa possibilità e perché in fondo sia la Lega e 5 Stelle volevano fare quel governo, al di là di tentennamenti, di mosse politiche elettorali volevano fare quel governo e quel governo è stato favorito dalla nascita di Mattarella che ha saputo aspettare, a volte anche mettere un po' fretta perché si stavano prendendo molto comoda e ha saputo guidare alla nascita di questo governo. Mattarella, tenete conto, era un esponente del Partito Democratico, quindi certo non legato né ai 5 Stelle né alla Lega, un avversario politico era stato per la Lega e 5 Stelle, ma in quel momento non ha messo in campo, direi, credo a parere di tutti, non ha messo in campo le sue preferenze politiche, ha fatto quello che deve fare un Presidente della Repubblica, cioè indirizzare, guidare e favorire la nascita dei governi che sono più logici, stante la situazione parlamentare. È nato quel governo, quel governo ha governato per un anno, poi è caduto per fatti suoi, non certo per Mattarella, e a quel punto Mattarella ha condotto la nascita del nuovo governo, che ha cambiato radicalmente faccia perché invece il governo giallo-verde è diventato il governo giallo-rosso, al posto della Lega il PD, il Conte Bis, se avete presente di cosa sto parlando, ma anche lì direi che ha sentito quella che era l'anda del Parlamento sostanzialmente e non ha, secondo me, sgarrato nei confronti di nessuno. Terminata quell'esperienza c'è stata pure in mezzo la pandemia che è stato un bel problema era gestire e lì devo dire che mi sembra di poter dire che Mattarella ha mostrato fermezza, comprensione, umanità anche, pur essendo un personaggio che può sembrare un po' freddo a volte, però in realtà mi sembra che sia stato molto apprezzato dagli italiani, generalmente, per la sua capacità di essere un punto fermo, un baluardo, anche molto umano in certe situazioni. Poi ha favorito, nettamente favorito la nascita del governo Draghi, ma come vedete il governo Draghi alla fine ne gode di una solida maggioranza del Parlamento, perché i partiti che lo sostengono sono ampi, molti anche, bisogna dirlo, perché alla fine sta fuori solo Fratelli d'Italia e nonostante poi dopo facciano moine un po', facciano un po' di scene elettorali, in realtà i partiti che lo sostengono non lo sostengono caldamente il governo Draghi. Quindi, alla fine, devo dire che nel rispetto della Costituzione Mattarella si è mosso molto bene. A volte ha tirato critiche anche, perché ricorderete che quando fu eletto gli emetti del centro-destra non erano contenti, quando era nato, stava per nascere il governo giallo rosso, era stato perfino paventato da Luigi Di Maio l'ipotesi di un impeachment contro Mattarella, cosa che non è possibile fare nell'ordinamento italiano. Quindi, però, forti polemiche, ma devo dire polemiche riassorbite. Oggi Mattarella gode della stima di praticamente tutto l'arco parlamentare, perfino di chi non lo voleva votare, nel senso che chi non lo voleva votare, per esempio buona parte del centro-destra, mi par di capire dalle dichiarazioni, ma penso siano anche sincere, che, certo, non lo volevano votare perché volevano qualcun altro, ma non perché ritenessero che Mattarella si fosse comportato in maniera scorretta negli loro confronti. Quindi, devo dire che mi sembra di poter dire, è la mia opinione, ma ripeto, penso sia molto condivisa, che il presidente sia stato un ottimo presidente. Meglio anche di altri che l'hanno preceduto nei decenni e anni precedenti. Ovviamente Mattarella è stato un buon presidente anche perché, bisogna dirlo, aveva un curriculum buono, perché alla fine, quando si sceglie un presidente, bisogna anche pensare che caratteristiche deve avere un presidente, al dià di Mattarella o non Mattarella. Visto che se ne è discusso in queste settimane tra vari candidati? Che storia deve avere un presidente? Che caratteristiche deve avere un presidente? Allora, la mia personale lettura, ma penso sia condivisa da buona parte dei costituzionalisti. In primo luogo, deve essere una persona autorevole, una persona di esperienza, una persona che sappia cosa sia la politica e sappia in certa misura anche gestirla. Avete visto cosa è accaduto in queste elezioni presidenziali? Le mosse, le promosse, gli sgambetti e i trappoloni che sono stati messi in campo da un leader all'altro, eccetera. Dopo magari ne parliamo brevemente. Ecco, un presidente deve avere quell'esperienza che gli permetta di non cadere in trappole, che la politica a volte sa metterti in campo. Quindi deve essere una persona di esperienza autorevole e rispettata, perché bisogna che un presidente della Repubblica sia rispettato, altrimenti le istituzioni ne risentono. ripeto, deve, secondo me, avere un minimo di esperienza politica. Questa, secondo me, è una cosa importante. Quando si sono vociferati magistrati o professori universitari che non hanno mai fatto politica, io non pensavo che potessero avere il profilo giusto. Anche nel caso della Bellone, ad esempio. Poi ne parliamo. Perché? Perché, a mio parere, e qua, a mio parere, ma ripeto, pensateci un po', anche voi, se secondo voi ha senso quello che sto dicendo. Un presidente della Repubblica deve molto relazionarsi con i politici, deve dare l'incarico di formare un governo, deve sentire le forze parlamentari, insomma, ha frequentissimi rapporti con la politica, anche con gli apparati dello Stato, ovviamente, ma anche con la politica. E deve essere in grado di tenere testa la politica, non deve essere l'ultimo arrivato che il politico di turno un po' più furbo riesce a gabbare, voglio dire. Bisogna che sia una persona che ne capisce, che ne abbia viste di cotte e di crude, mi verrebbe da dire. Quando i pari costituenti hanno pensato a una persona oltre i 50 anni, hanno pensato a una persona che ne avesse viste di cotte e di crude. Mattarella, in questo senso, è cresciuto dentro alla DC, è figlio di un ex ministro, cioè Mattarella le ha viste di tutti i colori nella sua carriera. Poi, che sia bravo o non bravo, magari qualcuno piace, qualcuno no, ma sicuramente di esperienza politica ne ha da vendere, è stato ministro più volte, ministro della difesa, vice capo del governo, è stato giudice della Corte Costituzionale, è un professore universitario, insomma, personale esperienza, questo è un curriculum con Mattarella, ma ce ne sono anche altri in Italia che hanno un curriculum simile. Bisogna che sia un politico navigato, che abbia avuto incarichi importanti all'interno della scena. Se è stato ministro, meglio. Se è stato presidente della Banca d'Italia, meglio. Se ha avuto ruoli di alto livello nell'economia, nello Stato, nella difesa, bene. Bisogna che sia uno che però sa gestire la politica, ha avuto rapporti con i politici e ha imparato a conoscerli, perché i politici sono anche brutta gente a volte e bisogna saperli gestire. Deve essere anche lui un politico, quindi, ok, sicuramente questo. Poi deve avere anche esperienza internazionale. Il Presidente della Repubblica va a fare missioni all'estero, va a fare ambascerie, va a conoscere, a incontrare, a relazionarsi. Rappresenta, ripeto, il Paese. E quindi, in passato, a volte si sono presi anche il Presidente della Repubblica che erano stati ministri degli esteri o che erano stati ambasciatori, o che avevano avuto ruoli di questo livello, o che avevano avuto un ruolo in Europa, ad esempio, nell'Unione Europea. Insomma, bisogna che abbia una caratura anche internazionale. Bisogna che sia un minimo conosciuto, perché all'estero si dicono, chi è questo nuovo Presidente della Repubblica? Bisogna che sia una persona di esperienza, che sappia di politica, che abbia avuto ruoli importanti e che sia affidabile anche all'estero, che sia ritenuto affidabile un nome solido. Questo voglio dire, questo credo che sia l'identikit del buon Presidente della Repubblica, che sia di destra o di sinistra, cambia poco. Cioè, ce ne sono a sinistra che hanno questo curriculum, ce ne sono al centro, ce ne sono a destra. Poi, magari non ce ne sono tantissimi dappertutto e poi magari ne parliamo, però, curriculum di questo tipo ce ne possono essere. Ora, come sono andate nel concreto queste elezioni? Beh, se avete visto, già da mesi si iniziava a fare dei nomi. Il primo nome sul piatto è stato, ed è stato fino anche all'ultimo, direi quello di Draghi, di Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio. Anzi, già un anno fa, quando è stato chiamato al governo, si era detto, ah, inizierà il governo, poi diventerà Presidente della Repubblica, perché Draghi ha un profilo di questo tipo. Ha lavorato in Banca d'Italia per molti anni e ha avuto rapporti con la politica. È stato poi alla Banca Centrale Europea, alla BCE, un ruolo importantissimo a livello europeo. È stato uno dei grandissimi leader europei e lì si è relazionato con politici di tutti i tipi, italiani, europei, tedeschi. E si è relazionato molto bene, su questo non si può dirgli nulla, nel senso che quello che voleva fare l'ha sempre fatto. I risultati che voleva ottenerli ha spesso ottenuti. Quindi sicuramente Draghi è un uomo che a livello di curriculum non gli manca niente, forse era il candidato più forte a livello di curriculum. Qual è stato il problema che ha frenato Draghi? Direi due problemi. Uno, il fatto di essere Presidente del Consiglio in Carica, nel senso che se lui diventava Presidente della Repubblica cadeva il governo e bisognava formare un nuovo governo. E a quanto è dato capire, le forze politiche attuali non erano in grado di mettersi d'accordo su un altro nome per il capo del governo. Draghi era un uomo autorevole lì che teneva insieme tutte queste forze che sono anche composite, perché il governo attuale è formato da gente di sinistra e gente di destra che si sono messe assieme solo perché c'è Draghi, sostanzialmente, che è un uomo che piace sia sinistra che destra, almeno una parte della sinistra e una parte della destra. e quindi, alla fine, togliere Draghi da lì voleva dire far saltare il governo e rischiare di non riuscire a formare un nuovo governo, rischiare di andare a elezioni anticipate e far cadere il Parlamento. Cosa che molti non volevano, in una situazione pareggiana ed effettivamente c'era dire che in piena pandemia sarebbe stato problematico. Quindi, a sfavore di Draghi ha giocato questo. Il secondo elemento a sfavore di Draghi è stato che, a quanto ci raccontano le croniche parlamentari, in Parlamento Draghi non sia amatissimo. Nel senso che Draghi è un decisionista, è un uomo forte, cioè un uomo che, forse anche per la carriera che ha avuto, una carriera più che da politico, da economista, è un uomo abituato a decidere lui e farci seguire, non trattare, non mediare. I politici sono generalmente più abituati invece a trovare dei compromessi anche all'interno del loro partito e poi tra più partiti. Ora, un decisionista come Draghi, in questi mesi, scusate, di governo, ha a volte irritato un po' il Parlamento, che si è sentito in parte esautorato perché decide tutto Draghi, perché Draghi va avanti come un treno, ritesta su e noi, parlamentari, cosa ci stiamo a fare qua? Quindi non era amatissimo e quindi forse neppure il Parlamento si è impegnato più di tanto a valutare veramente la soluzione Draghi. È stata una soluzione che è stata in campo fino all'ultimo, ma alla fine è tramontata e anzi lo stesso Draghi con, pare, è sicuro una telefonata, un incontro con Mattarella ha favorito alla fine la soluzione del Mattarella bis. Quindi Draghi era il nome più caldo, il curriculum obiettivamente migliore dal punto di vista proprio tecnico, ma alla fine anche la soluzione in fondo più complicata da percorrere per tutta una serie di problemi. Un altro nome che è emerso prima ancora di questa settimana e negli ultimi settimani è stato quello di Silvio Berlusconi perché il leader di Forza Italia, pare anzi che abbia voluto e tentato caldamente di farsi eleggere Presidente della Repubblica. I retroscena parlamentari, ma poi confermati da Vittorio Sgarbi e da altri, hanno parlato di un Berlusconi che nelle settimane scorse è stato intensamente attivo nel telefonare i grandi elettori per chiedere un sostegno alla sua candidatura. Con i voti del centrodestra più un'altra cinquantina circa di grandi elettori, forse Berlusconi dal quarto scrutino in poi ce l'avrebbe potuta fare. Ma la candidatura di Berlusconi è tramontata prima dell'inizio di questa settimana. È tramontata perché, a parte i voti del centrodestra che probabilmente l'avrebbe votato in maniera compatta, credo abbastanza compatta, Berlusconi non è riuscito a trovare i voti del centro e della sinistra. Perché questo? Perché era, secondo me, abbastanza prevedibile che la candidatura di Berlusconi non sarebbe andata in porto e mi ha meravigliato molto che invece Berlusconi ci abbia insistito così tanto, nel senso che anche lui si sarebbe dovuto rendere conto della difficoltà di quella candidatura. Nel senso che Berlusconi è stato un personaggio molto divisivo negli anni. È stato a lungo leader del centrodestra, sicuramente ha esperienza di governo perché ha governato a lungo. È stato capo del governo per un totale di nove anni, una roba del genere, tra i vari governi. Quindi sicuramente lui di esperienza ce ne ha. È stato in Parlamento ormai da parecchio tempo, eccetera. Poi, esperienza, i suoi sostenitori diranno che ha uno stile arrembante. I suoi denigratori diranno che non era per nulla adatto per un fit, come dicevano una volta, per rappresentare l'Italia, perché poi il ruolo del capo del governo è un ruolo anche molto compassato, quindi forse effettivamente Berlusconi non era del tutto adatto. Ma in ogni caso, essendo stato capo del governo, leader di uno schieramento politico per così tanti anni, è chiaro che i leader o i membri dell'altro schieramento difficilmente ti apprezzeranno. Infatti, se voi guardate la storia del Presidente della Repubblica, quasi mai, anzi direi mai, sono stati personaggi di primissimo piano, cioè leader di primo piano, anche Mattarella. Vi ho detto, ha avuto ruoli importanti, è stato ministro più volte, eccetera, ma non è mai stato segretario della DC o capo del governo. Perché in genere quelli che sono così esposti, capi del governo, di primissimo piano, finiscono per farsi magari molto amare da una parte, ma molto odiare dall'altra parte, sono troppo esposti. E quindi difficilmente possono rappresentare quella equidistanza, quella, quel ruolo così di rappresentanza totale che invece il capo dello Stato dovrebbe rappresentare, capite? È chiaro che se Berlusconi fosse stato eletto avrebbe fatto la gioia del centro-destra, ma avrebbe reso molto scontenti il centro-sinistra. Lo stesso si può dire qualche anno fa quando il centro-sinistra, quando poi finì per eleggere Mattarella, propose in prima battuta Prodi. Anche Prodi aveva un profilo simile, nel senso che magari Prodi aveva una maggiore esperienza europea, perché era stato anche commissario europeo, sicuramente. Però anche Prodi era stato leader del centro-sinistra, era chiaro che il centro-destra non l'avrebbe mai visto come il suo presidente, capite? Perché era stato per troppo tempo l'avversario di Berlusconi. E quindi era troppo schierato, capite cosa intendo dire? Mattarella, pur essendo uno di quel gruppo politico, lo era molto meno, era meno compromesso da questo punto di vista. Era più super partes, ma anche altri presidenti che abbiamo avuto potevano essere più super partes o comunque rispettati. Pensate anche a Pertini, uno che è stato un presidente molto amato ed era del partito socialista, quindi era decisamente di sinistra. Però Pertini non ha mai stato capo del governo, anche nel partito socialista certo in certi anni aveva avuto dei ruoli, ma ormai era a fine carriera e non era craxi, voglio dire, uno o ha molto amato o molto odiato. La stessa cosa napolitano, è vero che veniva dall'ex partito comunista, PDS, DS eccetera, però anche napolitano non ha mai stato il numero uno del partito, ha sempre stato il numero tre, il numero quattro, il numero due al massimo, ma sempre un po' in secondo piano, sempre un po' in ombra. Ecco, il presidente della Repubblica spesso ha questa caratteristica, è meglio scegliere uno di secondo piano, di seconda fascia, ma sicuro preparato, con un buon curriculum, eccetera, che è uno di primissima fascia, perché quello di primissima fascia è troppo odiato. Questo ci dirà anche, secondo me, che ad esempio personaggi come Salvini, Lameloni, Renzi, Letta, eccetera, che sono segretari di primo piano, ripartito poi Letta fino a un certo punto di primo piano, poi magari ne parliamo, però quei personaggi che stanno proprio davanti al timone, esposti all'onda mediatica, non hanno le caratteristiche per poter essere di unione, per poter essere rappresentare l'unità che invece il presidente della Repubblica dovrebbe garantire. Quindi la candidatura di Berlusconi, secondo me, era davvero improvvida e infatti è tramontata sostanzialmente subito. Poi ci sono fatti altri nomi, alcuni più interessanti, altri meno, nel senso di, intendo, il curriculum, ripeto, poi qua non voglio dirvi questo era bravo, questo era bravo, lì valuterete voi. Però, per esempio, Casini è stato uno di quelli che è stato portato. Casini aveva un curriculum discreto da questo punto di vista, è stato presidente della Camera, è un politico di lunghissimo corso perché, se mi ricordo bene, è parlamentare da più tempo in Parlamento, saranno ormai 30-40 anni, pur non essendo vecchissimo, quindi può anche garantire di non arrivare in 90 anni a finire il settennato, poi può piacere o non piacere Casini. Però sicuramente è un personaggio che è stato del centro-destra, ma poteva non dispiacere troppo neanche al centro-sinistra. D'altronde Casini in certi momenti è stato un fedele di Berlusconi, ma non è stato un fedelissimo in ogni istante, ha saputo anche staccarsi da Berlusconi in certe situazioni. Dico questo perché questi personaggi che vanno a fare il Presidente della Repubblica dovrebbero essere anche in grado di non essere troppo accondiscendenti con leader di turno, devono essere in grado di dimostrare di essere persone tutte in un pezzo, capace anche di dire di no al proprio leader politico di riferimento quando serve. Mattarella, ad esempio, da giovane è famoso per alcuni no forti alla segreteria del suo partito, perché quando uno crede a quello che crede, è giusto anche che non si pieghi davanti a del tutto davanti a un leader di partito e anche Casini in un paio di occasioni litigò con Berlusconi su alcune cose e quindi questo gioca a suo favore. Poi Casini per chiarità non è mai stato ministro, a livello internazionale non è poi così noto, quindi anche la creditoria di Casini non era fortissima, però almeno qualcosa sì. Si era fatto il nome di Frattini, ecco Frattini è stato ministro, aveva un certo appeal, poteva essere un nome spendibile dal centro-destra, poi è venuta fuori questa sua parziale compromissione con la Russia, nel senso che è legato abbastanza ad alcuni circoli russi, in questo momento forse l'elezione di Frattini, vista la situazione in Russia e Ucraina, in descrizione vi metto il link a riguardo, non sarebbe stata troppo consigliabile, però Frattini in altre circostanze magari era un nome spendibile su cui ragionare. Poi si è fatto a un certo punto il nome di Nordio, e fino alla fine avete visto che Fratelli Italia ha proposto Nordio, Nordio è un ex magistrato, anche molto stimato devo dire, poteva essere un nome stimato ma con un curriculum secondo me impresentabile, cioè non per dire il conto di Nordio, però l'ha detto lui stesso, se avete letto un'intervista rilasciata qualche giorno fa, ha detto ma guardate che io non voglio fare il Presidente della Repubblica perché non mi sento preparato per il ruolo, non ho mai amministrato niente, mi pare proprio che abbia detto, non ho mai fatto neppure l'amministratore di condominio, figuratevi se sono in grado di fare il Presidente della Repubblica. E' con Nordio, è stato magistrato anche importante, tutto in un pezzo, stimato, e però ha fatto solo il magistrato. Certo, il fatto di essere un magistrato, di avere una preparazione legale, è importante per un Presidente della Repubblica, ma ripeto, secondo me, aver fatto anche la politica è altrettanto importante. Non dico essere stati per forza ministri di primo piano, però un po' di esperienza politica ci vuole, e quindi a me è sembrata una candidatura molto debole quella di Nordio, pur con tutto il rispetto per la persona, voglio dire, quando non sto giudicando la persona. A un certo punto è venuto fuori il nome di Marcello Pera. Ecco, Pera ha avuto dei ruoli importanti, è stato Presidente del Senato, se mi ricordo bene, non della Camera del Senato, quindi sicuramente ha avuto un ruolo istituzionale importante, è stimato, perché è anche un studioso, un filosofo tra l'altro, che prima di riputarci in politica si è dedicato a moltissima filosofia della scienza, anche abbastanza importante a livello internazionale, come studioso di Popper soprattutto, quindi per chi è appassionato di filosofia era anche un nome spendibile, poi molto vicino alle posizioni della Chiesa, soprattutto di Papa Ratzinger, e lì può piacere o non piacere ovviamente, però è con un nome abbastanza autorevole, però anche Pera, a parte questa Presidenza del Senato, non ha più avuto altra esperienza politica, non è mai stato Ministro, non è mai stato dentro la Corte Costituzionale, insomma, anche quella indiatura è discreta, ma non fortissima, capite? Alla fine, a un certo punto, si è puntato, il centrodestra ha puntato molto sulla Casellati, la Casellati è l'attuale Presidente del Senato, quindi carica importante, però anche la Casellati, a parte la Presidenza del Senato, ma è stata Ministro, certo è parlamentare da molti anni, però anche lì, parlamentare iper berlusconiana, voglio dire, non come Casini che si può dire, beh, ha saputo anche dir dei no a volte, la Casellati non sembra una di quelle che sa dire di no a Berlusconi, o almeno fino ad oggi, poi magari ci avrebbe sorpreso, chi lo sa, però non era una candidatura forte neanche quella. Ecco, il centrodestra ha alternato una serie di candidati che erano non fortissimi, devo dire la verità, per curriculum, ripeto, per caratura, per caratura. Poi, ripeto, non sto parlando del valore delle persone in sé, sto parlando per, come si dovrebbe scegliere a volte qualcuno, anche guardare la propria storia, il curriculum, l'esperienza, cosa ci possiamo aspettare da quelle persone. C'è da dire che il centrodestra si è impegnato molto a fare questi nomi, perché inizialmente il centrodestra fin da subito ha detto l'iniziativa aspetta a noi. Perché ha detto questo il centrodestra? Perché il centrodestra effettivamente rappresenta il gruppo che in Parlamento, anche nelle due Camere riunite, eccetera, ha i numeri più alti. Il centrodestra unito arrivava a circa 450 grandi elettori, i 5 Stelle ne avevano meno, il centrosinistra ne aveva meno, la sinistra ne aveva meno. Quindi il centrodestra ha detto, è vero che noi da soli non possiamo eleggere nessuno, ma siamo comunque il gruppo un po' più consistente e quindi noi proponiamo i nomi e proponiamo alle altre forze politiche dei nomi che secondo noi sono validi anche di compromesso e vediamo se le altre forze politiche ci vengono incontro e si accordano con noi per un nome di compromesso. Effettivamente nella Prima Repubblica, spesso accadeva così, la forza di riferimento che so alla DC proponeva il suo nome e poi si vedeva se gli altri partiti appoggiavano, non appoggiavano, eccetera. Ora, questa operazione che il centrodestra si è intestato fin da subito e che Salvini si è intestato fin da subito, perché Salvini è formalmente l'attuale leader centrodestra, non è andata benissimo, nel senso che questi nomi sono stati portati un po' all'attenzione anche mediatica, uno dopo l'altro, ma sono presto tramontati uno dopo l'altro, non si è capito mai se il centrodestra ci puntava veramente oppure no. L'ultimo caso è stato proprio quello della Casellati, che avete visto, è stata portata finalmente con decisione dal centrodestra come suo candidato di bandiera ed ha fallito clamorosamente, perché ha preso meno voti di quelli che aveva il centrodestra, probabilmente da quello che sembra, ampi settori di Forza Italia, il partito stesso della Casellati e però qualcuno anche della Lega, se i conti non li ho fatti male, pare aver votato contro, perché come sapete, come avrete capito, il voto nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica è un voto segreto, quindi tu dici ai tuoi parlamentari votiamo tutti i Casellati, ma poi non sei sicuro che i tuoi parlamentari quando vanno nell'urna e votano in segreto obbediscono alla tua indicazione. Quindi poi non sai neppure chi ha tra virgolette tradito, chi ha fatto il cosiddetto franco tiratore, come si dice nel gergo politico. E però la Casellati è andata a sbattere, diciamo, è stata una candidatura direi fallimentale, perché quando una forza che vuole essere leader in quel momento, che vuole decidere lei o comunque incidere sull'elezione del Presidente, fa un nome serio, lo porta avanti, non solo non dovrebbe perdere, ma non dovrebbe neppure perdere così male, perché ripeto, il centro-destra ha perso dei pezzi suoi, non solo non ha preso i voti degli altri, ma ha preso meno voti dalla propria parte. Quindi il centro-destra ha fallito direi molto miseramente. E infatti lì si è capito che il centro-destra non avrebbe portato a casa l'elezione, diciamocela tutta. Anche in passato, quando, dico anche nella Prima Repubblica, quando una forza politica si incaponisce su un nome, va alla conta, va ai voti e perde, e perde magari peggio di come si aspettava di perdere, allora lì quella forza politica è finita per l'elezione del Presidente della Repubblica. È una batosta da cui non ci si riprende facilmente. Ricorderete qui che più orziano il caso Fanfani, ad esempio, quando era con la DC, Fanfani puntò molto a essere eletto e non venne eletto. Tra l'altro è famosissima una scheda contro di lui, probabilmente scritta da un suo compagno di partito, anche molto offensiva, molto forte, nano maledetto non sarai mai eletto, che finì per sancire la fine della carriera, cioè delle aspettative di Fanfani di diventare Presidente della Repubblica. Ecco, lì si è capito che per la Casellati era tramontata la speranza di essere eletta, ma anche che per i centrodestra era probabilmente tramontata la speranza di eleggere un loro uomo, un personaggio, una donna ovviamente, di loro fiducia. A quel punto ci sono fatti altri nomi. A quel punto c'è stata venerdì sera, sì, venerdì sera se non ricordo male, quella famosa riunione tra Salvini, Letta e Conte. Salvini, leader della Lega, teoricamente che parlava a nome di tutto il centrodestra, ma in quel momento lì in realtà i rapporti erano già abbastanza inclinati nel centrodestra. Letta leader del PD, che però si pensa aveva mandato di parlare anche per conto della sinistra, e Conte come rappresentante del Movimento 5 Stelle, le tre principali forze in campo. Queste tre forze sono incontrate per valutare una rosa di nomi. Terminata la riunione, la sera di venerdì, avrete visto forse un'intervista uscito prima Letta, Enrico Letta, leader, segretario del PD, che ha detto stiamo finalmente valutando insieme una rosa di nomi di un futuro o presidente o presidentessa della Repubblica, o presidente se volete al femminile, della Repubblica. E quindi lasciarono aperta la porta, non aveva fatto nomi. Subito dopo è uscito Salvini, anzi no subito dopo, qualche minuto dopo, perché Salvini si è trattenuto con Conte, qualche minuto in più, è uscito Salvini che ha detto siamo vicini a eleggere una presidente donna. E poco dopo è uscito anche Conte dicendo sostanzialmente la stessa cosa, siamo vicini a eleggere una presidente donna. A quel punto i giornalisti si sono scatenati, perché il profilo poteva essere abbastanza chiaro. C'erano due donne in corsa, la Casellati ormai era bruciata, perché si erano già andati alla Conta e aveva perso. Ma due possibili donne. Una era la Cartabia, la Ministro Cartabia, attuale Ministro della Giustizia, che ha un curriculum di un certo livello. Ecco, è un curriculum che piace abbastanza al centro-destra, perché l'area pare essere quella del centro-destra, anche se lei non si è mai schierata in maniera troppo netta. È una grande giurista, quindi avrebbe anche la preparazione giuridica. Certo, non ha un curriculum fortissimo, perché anche lei è ministro da poco, in politica non si è mai occupata tantissimo di politica, però comunque curriculum probabilmente più forte di quello di Pera, di quello di Nordio sicuramente, anche forse secondo me di quello della Casellati, a livello di quello di Casini, se vogliamo, come curriculum. L'altro nome era quello di Elisabetta Belloni. Ecco, questo nome alla fine è quello su cui si sono buttati tutti i giornalisti, perché probabilmente i politici stessi avevano fatto capire, con indiscrezioni varie, che il nome su cui si trattava era la Belloni. Non a caso, la notte proprio di venerdì, è uscito anche un tweet di Beppe Grillo, i giornalisti dicono anche, sollecitato da Conte, a favore dell'elezione della Belloni. Quindi sembrava fatta, sembrava che la Presidente futura della Repubblica sarebbe stata Elisabetta Belloni, che il giorno dopo, sabato, avrebbero tutti votato Elisabetta Belloni. Chi è questa Elisabetta Belloni? Ebbene, è una grande funzionaria di Stato, molto apprezzata, da quello che abbiamo capito, apprezzata a destra, apprezzata a sinistra, un tecnico, vorrebbe dire una tecnica, perché non ha mai fatto politica attiva. Ecco, se c'è secondo me un, anzi due critiche che si possono fare a questa scelta, nonostante potesse essere una scelta, secondo me anche valida sotto certi punti di vista era questo. Prima cosa, le mancava nettamente l'esperienza politica. Io adesso poi vi dico la mia opinione. Penso che questa signora Belloni sia onestamente molto capace, perché raramente si sentono così tanti politici elogiare un funzionario, una funzionaria, quindi sicuramente se piace a così tanti e così tanti la stimano, credo che sia molto capace. Però effettivamente non ha esperienza politica, ma proprio nessuna, nel senso. È stata al lavoro con la politica. Ha lavorato al Ministero degli Esteri, ha lavorato come alto funzionario, adesso è capo dei servizi segreti. Quindi sicuramente rapporti con i politici li ha avuti. Ma un ruolo veramente politico di chi deve decidere con i politici, mi sembra che non l'abbia mai avuto, nel senso che è sicuramente una che sa decidere, ma sa decidere come funzionario, che è una cosa che a me sembra un po' diversa. Mi dava l'idea, poi ripeto l'opinione mia, che magari è capacissima, però non è la prima a cui pensi, voglio dire, perché non l'hai mai messa veramente alla prova, come si barcama nell'altra Salvini, Renzi, Conte, Di Maio, Letta, non lo so, sarà in grado, Draghi? Cioè, per esempio, semplicemente nel rapporto con Draghi, io direi che è più forte Draghi, se lei diventa Presidente della Repubblica, mi sembra che Draghi abbia più esperienza, più nome, più fama anche a livello internazionale e quindi un po' se la pappa, poi magari vanno a morire d'accordo, voglio dire, però capite, Presidente della Repubblica deve essere uno che rassicura anche a livello internazionale, mi sembra di poter dire, no? Cioè, dalla Francia diranno ma chi è? Dalla Germania diranno ma chi è? Sarà prate nel testa a Draghi? Sarà prate nel testa a questo, a quello? Magari sì, eh, magari sì, però a scatola chiusa non lo sappiamo, perché nessuno l'aveva messa alla prova, quindi mi sembrava una candidatura un po' forzata, poi molti si sono scagliati sul fatto che è, molti alcuni, si sono scagliati sul fatto che è attuale il capo dei servizi segreti, certo, non è secondo me neppure un bel segnale, neanche quello che il capo dei servizi segreti diventi capo dello Stato, poi c'è da dire che è capo dei servizi segreti da molto poco e quindi vabbè, insomma, chissà, magari non era neanche tutto questo scandalo, però per ragioni anche di forse non creare un precedente mi sembrava non una candidatura fortissima neppure quella della Belloni. E poi soprattutto se devo dirla tutta, a me è sembrato sia le dichiarazioni di Salvini che era quelle di Conte, che loro ci tenessero a far vedere che era una donna, è una donna in gamba hanno detto, come sottolineare, avete presente quando uno dice, è una donna in gamba, come dire, sappiamo che le donne generalmente non sono in gamba, ma questa fa eccezione, quando uno deve dire è una donna in gamba, dà per sottinteso che le donne generalmente non siano in gamba, quando prendi un uomo, un candidato presidente, non è che dici, questo candidato è un uomo in gamba, non un uomo qualsiasi, è un uomo in gamba, diamo per scontato che sia in gamba sia un candidato alla presidenza della Repubblica, perché altrimenti non lo teneremo neanche in considerazione. Eppure per gli uomini non sottolineiamo che debbano essere in gamba perché lo diamo per scontato, per le donne invece diciamo, eh, in gamba, è brava questa donna, non è mica come le altre. Vabbè, questo per dire di come a volte ragioniamo, questo discorso l'ha fatto Salvini e Conte, ma penso l'avrebbero potuto fare molti politici italiani in generale. Purtroppo le donne sono ancora viste un po' come macchiette, eh, cioè diciamoci la verità, anche lì era un simbolo fare presidente della Repubblica una donna. Secondo me ci sono delle donne sicuramente, tipo la Cartabia, secondo me, ripeto, ha un curriculum del tutto paragonabile, anche migliore di altre candidate alla Presidenza della Repubblica. La Belloni probabilmente ha un curriculum ottimo e ottimale, poi secondo me la Presidenza della Repubblica non lo so. Però bisogna valutare la persona, no, se è donna o se è uomo, mettere una come Presidente della Repubblica solo perché è donna o soprattutto perché è donna mi pare offensivo anche del ruolo e della carica, oltre che della sua essere donna, nel senso che lei vorrà pure essere valutata per quello che sa fare, per le capacità e per il curriculum più che per il fatto di essere donna, perché finalmente abbiamo una donna alla Presidenza. Sarebbe ora di avere una donna alla Presidenza, ma speriamo che una ci venga scelta per le sue qualità e non per farne un simbolo. Ma come avete visto queste lezioni, con la scusa che c'era questa grande attenzione mediatica, a volte si sono cercati dei simboli e quindi alla fine è tramontato tutto. Devo dire una cosa, il centro-destra alla fine, secondo me, non è riuscito a proporre un nome serio, perché come dicevo tutte queste candidature erano candidature discrete ma mai ottimali. Quella della Belloni aveva dei difetti, infatti dopo che sono usciti Salvini e Conte subito si è scatenata una ridda di commenti, soprattutto da parte di Renzi e di Di Maio contro questo nome. Un fuoco amico, diciamo, che ha di fatto bruciato la candidatura, infatti il giorno dopo era già morta l'ipotesi di eleggere la Belloni. Secondo me, d'altronde, quello di Conte di Salvini è stato un errore clamoroso, tu non esci da un'assemblea del genere, da un'assemblea del genere e dici abbiamo deciso una donna, perché vuol dire bruciare il nome e lo so io, mi è meraviglia che non lo sappiano loro, che sembrano gli ultimi arrivati a volte. Ma in generale, questo vorrei rimarcare, il centro-destra ha fatto fatica a trovare un nome, un nome serio, un nome spendibile, veramente spendibile. C'era Casini che era un nome abbastanza serio, c'era La Cartabia che era un nome abbastanza serio su cui però non hanno mai insistito troppo, c'è stata la Belloni, ma insomma fino a un certo punto. Perché questo? E qua secondo me il centro-destra dovrà riflettere un po' al suo interno. Il centro-destra è stato al governo, negli anni 2000 c'è stato un sacco, Berlusconi nel 2001-2006, poi 2008-2011 e fanno già 8 anni se non ho fatto male i conti, poi anche negli anni 90 un paio d'anni e fanno 10 anni e poi adesso il governo giallo-verde 18-19, un altro anno. Cioè è stato al governo in questi anni eppure in questi anni il centro-destra non ha saputo formare un vero e apprezzato personale politico. Nel senso che in tutti questi anni di governo il centro-destra ha avuto a volte dei, ha avuto sicuramente ministri, ha avuto possibilità di mandare commissari ad esempio in Europa, ha avuto personale, funzionali pubblici messi in posti di rilievo, ma o se li ha bruciati o li ha compromessi in un certo senso. E questo è anche una colpa bisogna dirlo di Silvio Berlusconi, di come ha gestito la politica negli anni. Questo lo dico anche per chi vota centro-destra. Il centro-destra non ha un personale politico di una certa esperienza e autorevole che possa piacere o comunque non dispiacere anche al centro o alla sinistra. Perché? Perché Berlusconi ha spesso chiesto grande fedeltà ai suoi uomini anche in cose che hanno finito per compromettere queste persone. Lo dicevo la Casellati. La Casellati purtroppo nel suo curriculum ha una serie di cose di manifestazioni a favore di Berlusconi che non la rendono votabile per la presidenza della Repubblica. Diciamocela tutta. Ha protestato contro la magistratura, ha difeso Rubi e nel caso Rubi eccetera. Cioè non ha il ruolo per poter essere presidente della Repubblica. Perché è troppo compromessa con alcune cose, con la fedeltà a Silvio Berlusconi. Ma questo riguarda anche altre figure. oppure se le è bruciate. Pensate a, faccio un nome, il personaggio di centrodestra che aveva il curriculum perfetto per diventare presidente della Repubblica è stato l'unico di cui non si è mai fatto il nome perché è oriettissimo ad essere Mario Monti. Mario Monti ha il curriculum perfetto per fare presidente della Repubblica perché è stato capo del governo, perché è stato commissario europeo, perché è un economista, poi magari non va d'accordo con Draghi ed è vero. Poi magari la sua stagione tramontata, magari anche a un certo età, anziano ed è vero. Però guardate che a livello di curriculum nel centrodestra è quello migliore. Eppure è odiatissimo soprattutto a destra. Salvini penso avrebbe preferito forse qualcuno, avrebbe preferito forse D'Alema a Mario Monti per dire. Perché? Perché se lo sono bruciato e mangiato. Perché molto spesso il centrodestra, un po' come Crono che rivore i suoi figli, si mangia i suoi leader o si mangia le sue persone autorevoli. Allora su questo il centrodestra dovrà riflettere negli anni, nel medio e lungo periodo. Vorrà avere prima o poi presidente della Repubblica del centrodestra, cosa che in fondo in una Repubblica in cui c'è alternanza sarebbe anche ospicabile. Ebbene, deve lavorare per formare una classe dirigente non compromessa e non distrutta al suo interno. Perché se no è difficile trovare un nome veramente forte in questo settore. Ripeto, quei nomi forti ce li sono mangiati tutti. Prima ancora a derivare al voto, prima ancora a derivare alla conta. Alla fine, distrutti i nomi possibili, è rimasto solo Mattarella. E alla fine si è andati tutti su Mattarella perché era la soluzione B, a volte anche C o D, di tutte le forze politiche. Era la soluzione di ripiego. Non siamo riusciti a trovare un nome da nessun'altra parte? Scegliamo Mattarella. E che è stato un po' anche segno della sconfitta, ovviamente. E magari ne riparliamo tra qualche secondo. Il video sta diventando molto lungo. Ma volevo dire questo. Alla fine, faccio notare questo. Salvini è stato sconfitto dalla sua parte politica perché ha fatto un'uscita improvvida quella sera a dire stiamo vicini al nome di una donna e si è fregato da solo ed è stato poi lasciato cadere da Berlusconi, da Forza Italia, è stato fortemente criticato anche dalla Meloni, da Fratelli d'Italia. Ma allo stesso modo anche Conte è stato fregato dai suoi perché il primo ad essere durissimo contro la candidatura della Belloni è stato Di Maio, altro nome forte dei 5 Stelle. Quindi le varie candidature sono state bruciate all'interno dei partiti, all'interno delle leadership. Erano già deboli secondo me, ma se ne sono bruciate da soli. E questo ci porta a fare qualche valutazione. Ora chiediamoci, chi ha vinto? Chi ha perso? Chi esce rafforzato da questa situazione? Giusto per fare il gioco del capire come sono andate le cose tecnicamente. Vinto? Secondo me non ha vinto nessuno. Secondo me sono tutti perdenti. Chi in maniera più grave, più drammatica, chi in maniera meno grave. Però hanno perso tutti i leader politici in qualche misura. Soprattutto perché c'è anche qualcuno che, anzi quasi tutti, si sono intestati la vittoria. Abbiamo vinto, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Certo, qualcuno aveva anche detto che voleva Mattarella e quindi può anche dire io ho vinto. L'avevo detto fin da subito che voleva Mattarella e quindi alla fine è tornato Mattarella. Potrebbe anche dire ho vinto. Ma a me sembra che in realtà anche chi può sembrare che abbia vinto in realtà ha perso. Penso ad esempio a Renzi o alcuni settori del PD che avevano detto Mattarella va benissimo. L'avevano detto già da tempo. Però secondo me sono usciti sconfitti anche loro. Nel senso che hanno ottenuto magari quello che volevano. Magari avevano come prima opzione Draghi, seconda opzione Mattarella. Quindi non abbiamo preso Draghi, almeno prendiamo Mattarella e va bene. Possono riusci contenti e soddisfatti. Ma hanno perso perché, magari alla fine tiriamo un po' le somme, la politica esce indebolita da questa settimana, secondo me, negli occhi degli italiani e anche nella tenuta dei partiti. L'impressione degli italiani, anche degli elettori del PD, intendo, che hanno visto, che hanno seguito questo spettacolo, è quello che la politica non si è riuscita a trovare un altro nome dopo Mattarella. Mi pare di poter dire che in generale gli italiani siano stati molto contenti del settennato di Mattarella, ma che ritengono ingiusto quello che è accaduto. Andare a chiedere a Mattarella un altro settennato è che la politica non sia stata in grado di esprimere un altro nome. Guardate che poi è la seconda volta in dieci anni che la politica si impantana in questa maniera, perché anche alla fine del settennato di Napolitano non si riuscì a trovare un altro nome e si chiese a Napolitano di fare un altro anno e mezzo da Presidente della Repubblica. Quindi già nove anni fa la politica fallì, adesso ha fallito di nuovo, perché alla fine non trovare un altro nome, se non supplicare Mattarella di rimanere è un fallimento. Quindi secondo me non ha vinto nessuno. La politica non è stata in grado di trovare un nome autorevole o di produrre un nome autorevole, perché si può anche dire che c'erano poche alternative. L'unico nome forte era Draghi, come curriculum, come dicevamo prima. C'erano altri curriculum un po' di secondo piano, la Cartabia, la Belloni, Casini, eccetera, ma deboli e allora abbiamo dovuto prendere per forza Mattarella. Vabbè, capisco anche, ma come siamo arrivati a questo punto? Perché non abbiamo nomi forti da poter spendere? Perché la politica in questi anni non è stata in grado di formare un personale politico di una certa età che abbia esperienza, che abbia capacità e che sia libero, che non abbiano in passato compromissioni con questo leader o con quell'altro leader, con la Russia o con Berlusconi o con questo o con quello. Cioè la politica dovrebbe essere in grado anche di produrre del personale politico adeguato, in grado non solo di raccogliere voti, ma anche di rappresentare una garanzia per il buon funzionamento dello Stato. Se non ci riesce vuol dire che la politica è malata e questo penso sia evidente a tutti. Quindi certo hanno gestito male anche gli accordi di questa settimana e si poteva fare infinitamente meglio. Adesso la politica esce indebolita, anche se poi qualcuno dice io ho manovrato le mie pedine, ho capito. I renziani ad esempio sono molto contenti perché Renzi va in giro a dire io sono il, come si dice, kingmaker, quello che è riuscito a muovere le pedine, ma sicuramente Renzi è delle qualità da questo punto di vista. Renzi è bravissimo a muoversi e per dire anche Di Maio è stato molto bravo a muoversi dal suo punto di vista. Ma pensiamo anche al di là dei vantaggi o del lago della bilancia di questo o di quel partito. Pensiamo anche all'immagine che la politica dà di sé nell'elettorato o nel popolo. È un'immagine sempre più in difficoltà, cioè ce lo diciamo da molto tempo. Ci sarebbe bisogno di una politica che sappia anche in certe situazioni, poi è chiaro che la politica perseguirà i suoi scopi di volta in volta, ma quando si tratta di arrivare ad esempio all'elezione del Presidente, che è un momento importante e decisivo della storia italiana e quindi, ripeto, il Presidente poi ha tutta una sua ritualità e così via, bisognerebbe che lì ci si mostrasse maturi, seri, competenti e purtroppo secondo me pochi sono riusciti o quasi nessuno, nessuno forse è riuscito davvero a dimostrarsi così competente e serio. Secondo me tutti sconfitti, poi chi peggio, chi meno peggio, perché ci sono anche differenze. Chi ha perso proprio nettamente? Secondo me direi due personaggi escono fortemente ridimensionati da questa contesa di questa settimana e sono Matteo Salvini e Giuseppe Conte, soprattutto per quell'uscita improvvida sulla Belloni la sera di venerdì. Ma Salvini in generale purtroppo ha, purtroppo per lui intendo, ha incappato una serie di errori. L'ho sentito ieri sera, sabato sera, anche in un'intervista davvero rattristato, tutti se la prendono con me, mi ha fatto anche un po' pena, poverello. Era un compito difficile il suo, però Salvini davvero non è riuscito a gestire il suo centro-destra e gestire le trattative, si è fatto anche un po' fregare, diciamocela tutta, da Renzi, e non è neanche la prima volta, e da Di Maio, che insomma ce lo sono pappati a colazione. Quindi dal punto di vista, ripeto, non tanto, poi non voglio dire Salvini è bravo o non è bravo, a voi piace o non piace, qua si parla di strategia politica e secondo me se Salvini mira a diventare prima o poi Presidente del Consiglio, saranno le elezioni tra un anno, l'esito di questa settimana non gioca molto a suo favore, perché non è riuscito a gestirla bene. Magari tra un anno le cose saranno diverse, tra un anno magari Salvini sarà maturato e farà meglio, forse, chi lo sa, però qui non ha dato prova di essere uno che sa gestire, che sa muoversi, che sa gestire una trattativa, perché non ha gestito nessuna trattativa. Il signoresta ha detto, lo proponiamo nel nome, si è preso una responsabilità, fin da subito Salvini si è preso una responsabilità e non è riuscito a ottenere nulla, perché di tutti i nomi che lui ha fatto non è stato eletto nessuno, alla fine è stato eletto Mattarella, che era probabilmente l'ultimo dei nomi che voleva, non l'ultimissimo ma quasi l'ultimo. E tra l'altro esce con una Lega molto in crisi, se avete subito ieri c'è stata una polemica forte anche con Giorgetti, che non si è del tutto capita, ma sembra che all'interno della Lega ci sia una bella frattura, che sarà difficile, adesso Salvini la sua leadership all'interno della Lega è anche un po' ridimensionata, questo voglio dire, perché penso che all'interno della Lega ci fosse una parte che fosse in fondo favorevole anche a una soluzione Mattarella, o a una soluzione Draghi, o a una soluzione di questo tipo, una parte che invece premeva per nomi più di destra. Salvini non è riuscito a raccontentare negli uni negli altri, mi sembra alla fine, quindi sicuramente esce sconfitto, esce una persona batosta, ecco, da questa elezione forse la peggiore. Quindi se devo dire chi ha perso, direi Salvini. Poi non è detto che sia la fine, Salvini è ancora il segretario della Lega, è ancora il governo, adesso vedremo cosa accadrà, magari si riprenderà, però non l'ha gestita bene. Per dire anche Berlusconi, che pure oggi a livello di sondaggi conta quasi niente rispetto a Salvini, Berlusconi ha deciso lui, alla fine ha preso in mano lui le redini della situazione, pur essendo anche tra l'altro in ospedale, credo perché ha avuto un malore, ha dimostrato di gestire ancora lui, di essere più esperto di Salvini su certe cose, ecco, questo voglio dire. Quindi, Conte, anche lui esce molto ridimensionato, Conte ha preso le redini del Movimento 5 Stelle, con una certa fatica tra l'altro, ma la prima vera prova di mediazione di trattative ha fallito anche lui. Ha fatto questa uscita dicendo che sarà una donna, Grillo l'ha appoggiato con un tweet improvvido che ha detto benvenuta Italia, benvenuta presidente, con l'hashtag Elisabetta Belloni e il giorno, poche ore dopo, era già bruciata completamente quella candidatura. Quindi ha fallito e in fondo l'ha un po' anche ammesso Conte, ha detto, pur avendo qualche suo uomo che ha detto ha vinto Conte, alla fine ha detto, faremo, c'era il tempo per valutare cosa è accaduto dentro al 5 Stelle, perché è una frattura enorme, si è verificata all'interno del Movimento 5 Stelle e bisognerà vedere alla fine. Quindi sicuramente secondo me sono i due grandi sconfitti, poi ripeto, secondo me un po' tutti hanno perso, quindi non è che Letta poi ne sia uscito tanto meglio, cioè per carità non è incappato in una debacle così clamorosa, alla fine Letta è stato anche contento, il suo partito ha applaudito eccetera, sicuramente Mattarella è una soluzione buona per il PD, molto buona, molto meglio di qualsiasi altra soluzione che poteva uscire, ma alla fine anche Letta sta proseguendo una strategia che viene chiamata regionale la strategia dell'oppossum, che certo un pochino rende, la strategia dell'oppossum vuol dire che si finge morto, nel senso che non si muove, aspetta, sta in disparte, gioca di rimbalzo, sicuramente rende in certi frangenti ma anche lì la politica ne esce di dimensionata, perché se vuoi guidare il paese devi dimostrarti anche propositivo in certe situazioni, ecco, però ripeto sicuramente ne esce meglio degli altri. Chi esce rafforzato? Secondo me rafforzato magari non tantissimo, quindi non li direi vincenti e vincitori, ma comunque tutto sommato non hanno perso punti, io direi due personaggi in particolare, forse tre, e direi Lameloni sicuramente esce abbastanza rafforzata, Di Maio, secondo me esce abbastanza rafforzato, forse Renzi, vi spiego. Lameloni è rimasta molto coerente con se stessa e se ne è anche vantata alla fine, nelle ultime dichiarazioni di ieri, di sabato, quando si è eletto Mattarella, la sua estrema coerenza. Nel centro-destra è stata l'unica che non ha fatto dei volti a faccia, non ha cambiato idea e questo gioca a suo favore, lei effettivamente gioca da sempre la carta della fermezza, l'altro non è un partito conservatore, la fermezza, il non cambiare idea dovrebbe essere uno dei baluardi, no? Ha portato una candidatura a quella di Nordio, che secondo me era debolissima, era improponibile, ma ci è rimasta fedele fino alla fine, ha cercato in fondo di rimanere unita nel centro-destra perché i voti non sono mai mancati dal suo partito, i voti ai candidati scelti dal centro-destra e quindi ne esce facendo una bella figura, tutto sommato con i suoi elettori, io penso che i suoi elettori siano contenti di come lei si sia mossa, anzi penso che Fratelli d'Italia ruberà dei voti alla Lega, forse anche dei parlamentari, nel senso che Salvini ha fatto una figura più incerta, peggiore, e una parte della Lega già da un po' preme per Fratelli d'Italia, la nuova forza trainante del centro-destra, anzi della destra, sembra essere Fratelli d'Italia, quindi mi sembra rafforzata, poi dico non è uscita vincitrice neanche lei perché se il centro-destra si sfalda, come pare stia accadendo, come forse potrebbe accadere, è chiaro che la Meloni da sola non va da nessuna parte, cioè Fratelli d'Italia da solo non è un partito che può vincere le elezioni, se Fratelli d'Italia vuole giocare un ruolo deve avere anche una componente della Lega e anche una componente del centro-centro-destra, quindi in realtà questa frattura non gioca troppo neppure a suo favore, ripeto, esce rafforzata come leader, ne avrà un breve vantaggio, ma nel medio e lungo periodo non credo che sia neppure lei troppo contenta dell'esito, ecco, quindi sì, rafforzata ma non vincitrice questo direi, non per demerito suo perché se l'ha giocata bene, tutto sommato con le carte che aveva Fratelli d'Italia mi pare se la sia giocata bene dal punto di vista politico, però quello che accade attorno conta anche per lei. L'altro come dicevo è Di Maio, Di Maio si è dimostrato un politico che anni fa non avremmo mai detto secondo me, perché come vedete Di Maio ha fregato Conte sostanzialmente, attualmente il leader di 5 Stelle è Conte, Di Maio lo ha buggerato, diciamola così, nel senso che quando Conte si è uscito con l'ipotesi Belloni, esponendosi, perché di fatto l'ha fatta sua insieme a Salvini, quindi si è esposto per quel nome, Di Maio è uscito subito con una dichiarazione fortissima contro la Belloni, non contro la Belloni in sé, ma contro il ruolo, visto che è capo dei servizi segreti, ha trovato l'appoggio di Renzi, che tra l'altro nemico storico, ma in realtà in questo caso hanno agito di concerto, cioè tutti e due nella stessa direzione, e ha avuto la meglio, perché ha bruciato la candidatura della Belloni e ha portato al Quirinale, ha lasciato al Quirinale Mattarella, che era quello che Di Maio voleva fin da subito, o Draghi o Mattarella, e quindi Di Maio è forse il più contento di tutti. Certo, Ney si è rafforzato perché si è dimostrato un politico che sa muoversi, che ha anche una schiera di fedelissimi all'interno del Parlamento e che sa anche ribaltare le sorti di un'elezione di un Presidente della Repubblica. Devo dire che però non è un vincitore neppure lui, ne esce rafforzato nella sua posizione interna, ma adesso i 5 Stelle sono anche loro sfaldati, spaccati, in difficoltà obiettivamente. E quindi è tutto da vedere come finirà questa faccenda, il regolamento di Conte interno che ci sarà nel Movimento 5 Stelle. Tra l'altro Grillo si era esposto anche lui con Conte, appoggiando Labelloni. Adesso Di Maio è andato per conto suo. Quindi vedremo. Certo, ne esce un po' rafforzato quello sì, direi, nella sua posizione politica. Renzi, infine, secondo me Renzi, se lo rilatutto, è uno dei più esperti politici dal punto di vista tecnico, nel senso che si sa muovere. Come vedete, brucia tutte le cannelliature che vuole, quando vuole, e alla fine porta la situazione nella storia che a lui fa più comodo, che a lui preferisce. Questo l'abbiamo visto anche con la nascita del governo Draghi. Di fatto il governo Draghi l'ha fatto nascere lui, possiamo dire, in qualche misura. Ha fatto cadere il governo Conte 2 e ha fatto nascere il governo Draghi. Il problema è, questo possiamo dirlo, per questo non dico, si era rafforzato, forse sì, vincitore direi di no. Nel senso che, alla fine, la strategia di Renzi funziona bene a livello parlamentare. Quando c'è da portare un'elezione a una situazione del genere, funziona e lui decisamente è forse il più bravo in questo, tra i parlamentari e i leader politici. Poi, se questo gli gioverà elettoralmente, non lo so, nel senso che Italia Viva o i vari partiti di Renzi hanno, nei sondaggi, percentuali davvero piccoli, non riesce a crescere questo partito. Renzi quindi ha alcuni fedelissimi elettori che lo adorano, che lo amano per questa sua capacità e altri che lo odiano per questa sua capacità. Perché, chiaramente, quando si è così bravi a manovrare, c'è chi ti stima e chi ti odia, è inevitabile. Quindi, non lo so se è un vincitore, nel senso che tra un anno si vota e Renzi rischia di uscirne male, con le ossa rotte, dalle elezioni tra un anno. Certo, in questo caso ha ottenuto una parte di quello che voleva. Poi, chi lo sa, quali siano i veri progetti di Renzi a lungo termine. A breve termine è sicuramente uscito rafforzato. Detto questo, chiudiamo. Quali sono i problemi che rimangono aperti? I problemi che rimangono aperti, secondo me, sono parecchi, ma uno sovrazza tutti gli altri. Ed è la clavorosa e sempre più duratura crisi dei partiti. I partiti politici in Italia sono in crisi da molti anni, per tutta una serie di motivi che poi esulano anche dall'Italia, riguardano un po' tutti i paesi del mondo, delle democrazie occidentali e così via. Ma questa crisi è sempre più evidente. Questa legislatura è stata traumatica da questo punto di vista, per la difficoltà a formare i governi, per la difficoltà dei leader di tenere i loro stessi parlamentari. L'abbiamo visto anche qua. Perfino Salvini, che è stato un leader per certi versi, per molto tempo molto amato all'interno del suo partito, ha fatto fatica a tenere in piedi la Lega. Se avete visto, alla fine, quando si è deciso anche di votare Mattarella, una parte della Lega probabilmente ha votato contro. E c'è Maretta interna. Berlusconi, che è stato un leader amatissimo all'interno del suo partito, alla fine ha bruciato la sua stessa candidata, Elisabetta Casellati. Nel centro-sinistra, vabbè, lì fratture all'interno dei partiti ci sono sempre stati, ma perfino nel Movimento 5 Stelle, che poi non è un partito movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono ancora due anime in lotta tra loro. Insomma, è stato complicato. Non che sia la prima volta che i leader fanno fatica a tenere i loro partiti, però c'è sempre più uno scollamento tra partiti e società civile, tra Parlamento e cittadinanza. E il fatto che i leader non riescano neppure a tenere i loro parlamentari è, secondo me, un problema. Un problema che alla lunga bisognerà cercare di affrontare e risolvere. Perché, certo, per carità, poteva anche andare peggio. Pensate alla pandemia. In questa pandemia, in fondo, siamo riusciti a tenere la barra abbastanza dritta. Certo, ci sono state molte proteste, però non così forti come in altri paesi, mi sembra di poter dire, o non peggio che in altri paesi. In fondo, la politica è sembrata reggere l'urto, ma c'è riuscita perché abbiamo avuto, secondo me, un Presidente della Repubblica come Mattarella, che è stato molto autorevole. Avessimo avuto un Presidente della Repubblica meno autorevole, forse non avremmo tenuto la barra così dritta. Siamo riusciti perché, in fondo, tante forze politiche si sono unite a formare dei governi ampi. Oggi abbiamo un governo che è quasi di unità nazionale, ci sono dentro quasi tutti. Perché, alla fine, ci si è assunti delle responsabilità. Ma, come vedete, ci fa fatica. È stata la pandemia che li ha costretti alcuni, ma le spinte centrifughe sono molte, le difficoltà sono molte. Questo problema durerà un po'. Il Movimento 5 Stelle, in certe fasi, l'ha anche saputo interpretare e ricondurre all'interno dell'adio parlamentare, ma bisognerà vedere il prossimo Parlamento. Il prossimo Parlamento avrà meno parlamentari, perché c'è stata una riforma costituzionale che, come sapete, con il referendum poi ha approvato la riduzione del numero di parlamentari. E questa riduzione potrebbe semplificare le cose, ma potrebbe anche complicarle. Perché potrebbe portare ad ancora meno rappresentanza in Parlamento, un ancora maggior distacco del Parlamento dalla cittadinanza. Magari no, ma potrebbe anche accadere. Quindi dovremo vederlo poi alla prova dei fatti, come vanno le cose. Ci sono dei rischi importanti in arrivo. E c'è una stagione ancora difficile. Arriveranno anche tanti soldi dall'Europa, che bisognerà spendere bene, che potrebbero rinunciare l'Italia anche dal punto di vista economico. Arriveranno i soldi del piano Marshall, praticamente. Sapete che dopo la Seconda Guerra Mondiale il piano Marshall ci diede il via, poi anche grazie a tutta una serie di fattori, per il boom economico, per lo sviluppo dell'Italia, per il superamento di tanti problemi e la nascita anche di altri problemi, ovviamente. Bisognerà saper gestire questi soldi, gestire le sfide del futuro, che sono tante, con una classe politica adeguata. Non sempre la classe politica sembra del tutto adeguata. La prova di questa settimana è lì. C'è da dire che il mondo sta cambiando, il mondo spinge per un controllo sempre più capillare e sempre più social dei politici. Ecco, questa è una cosa che a me personalmente preoccupa. L'attenzione mediatica sulla politica è una cosa importante da un certo punto di vista, perché è giusto che la cittadinanza si interessi di politica, segua e sappia e conosca. Non vorrei che però questa attenzione si spostasse dalla conoscenza della politica a una politica da social. Come avete visto, i social network hanno inciso in questa situazione, le dichiarazioni, anche certi candidati hanno candidati improponibili, più da televisione che altro. Ecco, non vorrei la eccessiva riduzione della politica a reality show. In questo senso la cosa peggiorerebbe ulteriormente. In questi anni abbiamo avuto politici che hanno tentato di buttarsi sui social network e fare politica sui social network. Per carità, i social network possono essere utili in certi casi, possono portare voti, ma poi quando si tratta di governare in situazioni difficili bisogna mettere a parte i social network e fare delle scelte a volte anche un po' impopolari, ma che vadano nella direzione giusta. Bisogna essere in grado di fare queste scelte, bisogna essere in grado di mediare, bisogna essere in grado di avere strategie, di non mettere lì un nome perché piace alla tv, perché piace a internet, perché piace a twitter, perché piace a questo, a quello, ma mettergli un nome che possa essere autorevole. Non sempre la politica mi sembra, mi è sembrata in questi anni in grado e quest'ultima settimana ne è stata l'ulteriore conferma come se ce ne fosse bisogno. Alla fine si è scelto Mattarella che sicuramente è l'antisocial, quindi alla fine apre valso il buonsenso, però come ipotesi ti riserva, capite? Quindi per ora stiamo in piedi, per ora andiamo avanti, per ora ce la facciamo, ma prima o poi arriverà il futuro, prima o poi bisognerà fare delle scelte, prima o poi bisognerà affrontare i problemi. Si è rimandato il momento in cui bisognerà affrontare dei problemi che ci sono sul piatto, che vanno affrontati, anche nella scelta del personale politico. Quando vi dicevo il centro-destra in fondo ha pochi nomi spendibili in questo senso, è vero, ma anche il centro-sinistra non è che si è messo molto meglio, anche i 5 Stelle non sono messi molto meglio. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, si sono bruciati nomi spendibili e non se ne sono creati di altri, perché si è barato più a una politica faziosa che a una politica di livello in certi casi. Non sempre, c'è qualche politico di livello, non voglio dire che sia tutto così, ma sicuramente la faziosità è andata crescendo e questo ha fatto sì che oggi non abbiamo politici di 50, 60, 70 anni autolevoli, ne abbiamo molto pochi, capite? Invece ci servirebbero, siamo costretti ad andare a chiedere a Mattarella che ha 80 anni, perché? Perché la generazione dopo difetta di nomi di questo tipo. Anche altri nomi che c'erano fatti come Amato, avevano sempre l'età di Mattarella o Cassese, sono anche più vecchi di Mattarella. Allora, capite? Ci manca una generazione, perché per 20 anni, 30 anni abbiamo fatto politica sui social, sulla base di semplici e pure tifoserie. Forse ogni tanto bisogna anche fare una politica che, pur essendo di destra o di sinistra, sia anche al di sopra delle tifoserie. Se tu la fai, almeno ogni tanto, almeno un po', poi alla fine hai anche personale politico che puoi eleggere a Presidente della Repubblica e del personale politico, magari di destra, magari di sinistra, ma che è al di sopra delle parti, capite? E quindi bisognerebbe insistere in quella direzione. Questa è la mia opinione personale, la mia lettura personale sui problemi che rimangono aperti. Ecco, questo era quello che volevo dire. Ci ho messo un po', spero di essere stato abbastanza chiaro, di aver spiegato poi le varie dinamiche, i vari problemi che sono emersi e la situazione come si è andata delineando in questa settimana. Chi ha seguito i telegiornali, i giornali, con un po' di esperienza, queste cose le sapeva già e magari sarà spesso d'accordo su quello che ho detto, a volte magari non del tutto, ma insomma penso di essere stato abbastanza super partes nell'analisi. Chi ha seguito poco spero abbia capito qualcosa di più di quello che è accaduto e dei problemi che si affacceranno all'orizzonte. In descrizione vi ricordo trovate i titoletti in cui ho diviso questo video in modo da poter ascoltare un pezzo o un altro. Trovate anche il link a quei due o tre video che ho citato e soprattutto alle playlist social network e alla newsletter settimanale se volete rimanere informati su quello che faccio, i video, i podcast e tutto il resto. Basta finito, ci vediamo presto per altri video più legati alla storia e alla filosofia ma ogni tanto anche sull'attualità, su quello che accade e sull'educazione civica. Ciao, alla prossima! Ciao!